Andy Selva regala alla Nazionale San Marinese la prima storica vittoria in campo internazionale. Un successo meritato, arrivato al termine di una gara che di amichevole ha avuto ben poco. Sono passati solo pochi minuti quando Andy Selva, per la prima volta capitano della Nazionale, infila Gele con una pennellata che va a morire sotto l'incrocio dei pali. Un gol bellissimo, sottolineato anche dall'avversario più rappresentativo.